Per rispetto delle vicende dei personaggi si prega di ridere con moderazione. Il verbale dice che l'auto era in sosta vietata. E questa è una prova sufficiente. Come si chiama quella con i capelli lunghi? Quale? La tua collega di lavoro. Per colpa sua tuo padre si è suicidato e l'unica cosa che ti viene in mente è insultarlo. Ti sto dicendo che la striscia in terra non c'era. Lo sai che sei un paziente frustrato? Coglione! Non ci posso credere. Filmami questo! Ma quale violenza? Io sto descrivendo una realtà. Dov'è la violenza? No ma come scream! No ma è la mia popula. No ma come fronte. No ma c'è! Sono sono stata mangera.